La possibilità di riportare a casa utilizzando appositi contenitori le porzioni di cibo e le quantità di vino non consumate durante il pasto. Confcommercio Cosenza propone sul territorio della provincia il progetto nazionale contro lo spreco alimentare denominato Rimpiattino, lanciato da FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di Carta e Cartone. Permette ai ristoranti di dare un supporto agli ospiti che consumano il pasto, di portare a casa il pasto avanzato. Diciamo la moderna sostituzione della doggy bag americana, quindi un piccolo contributo al cliente che quando termina il pasto potrebbe portare a casa gli avanzi per consumarli successivamente e perché no anche la bottiglia di vino. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la sensibilità dell'opinione pubblica e delle imprese della ristorazione sul tema dello spreco alimentare. Come evidenziato dall'indagine FIPE, l'80% dei ristoratori italiani intervistati definisce eccessivo lo spreco del cibo nei propri locali. A questo si aggiunge l'imbarazzo addetta del 55% degli imprenditori sentiti da FIPE Confcommercio dei clienti nel riportare il cibo e il vino non consumati a casa. Tutti i pubblici esercizi stanno mostrando interesse, molte aziende, quali i ristoranti, i paninotechi che stanno aderendo al progetto. Non è molto impegnativo perché basta dare un minimo cenno di interesse e le attività possono portare a casa questi contenitori comprandoli direttamente qui con noi, qui da Confcommercio. e hanno la possibilità di mostrare questo contenitore presso i loro locali e perché no, è un servizio in più per i nostri clienti che oggi hanno sempre bisogno di attenzioni.